La prima domanda, la più istintiva, è come è nato, qual è stato il seme che ha fatto germogliare questa pianta, questo film, come è cominciato. Diciamo che l'idea alla base è quella sicuramente di fare un film su questa storia, nel senso che mi affascinava e mi affascina molto la natura di questo mito, questo dualismo che c'è dentro il racconto, questa visione che i gemelli hanno della vita, il destino, il determinarsi o no l'esistenza di Dio o meno, tutto questo dentro qualche cosa che è è la mia grande passione, che quindi comunque è un cinema d'azione spettacolare, d'intrattenimento e che vive poi anche delle sequenze stesse con le quali è realizzato e poi, come dire, all'interno di queste sequenze trova anche il suo senso, il suo significato. Hai parlato di due fratelli, la dinamica familiare è anche negli sfiorati, veloce come il vento, cosa rappresenta nel tuo cinema il concetto di famiglia? Ma diciamo che sicuramente la famiglia è un luogo di archetipi e secondo me noi come cinema abbiamo un po' perso la passione per l'archetipo, la passione per il sentimento primario, la passione per racconti che hanno, che sono importanti, no? Io come riferimenti per questo film si è parlato di Revenant, si è parlato di Valhalla Rising, io in realtà vedo molto Toro Scatenato, vedo Rocco e i suoi fratelli, vedo molto delle relazioni non solo familiari ma di personaggi che si muovono uno sull'altro e che hanno un archetipo emotivo che li lega ma un'avventura che in qualche modo poi, non ti dico li fa combattere fra loro ma che poi in qualche modo li lancia in un universo che deve essere ovviamente poi letto dallo spettatore con tutti i livelli di lettura necessari. La famiglia è un luogo di relazioni sicuramente archetipico e che a me affascina. Il Primo Re è un film storico o un film sulla storia? Io penso sia più un film sulla storia nel senso che non ha nessuna appunto ambizione di Peplum eccetera, cerca di essere più un film estremamente realistico ambientato in un altro tempo. Quindi è un film nella storia, è un film che racconta una, come dire, mette in scena in maniera realistica un mito, una storia fantastica, leggendaria che però ha dei significati che sono molto precisi sulla fondazione del nostro tempo, del nostro impero, quindi bisogna, il nostro impero diciamo, della nostra, chiamiamola della contemporaneità, quindi comunque alla base della fondazione, diciamo, dell'Occidente c'è un elemento appunto archetipico, interessantissimo e che ha secondo me un potere di detonazione cinematografica assoluta. Ultima domanda, speri che possa essere l'inizio per un nuovo percorso cinematografico italiano? Diciamo, il mio percorso personale continua, i film appunto li conosci, diciamo che spero di sì e lo spero sempre, perché poi sai io sono anche un produttore, spero sempre di arrivare a poter costruire con gli autori storie nuove e spero anche che arrivino, per i film italiani, arrivi un'innovazione più costante, nel senso si è parlato molto, ho letto degli articoli sul rinnovamento del cinema italiano, quei 3-4 film, fra cui il mio precedente, che hanno in qualche modo caratterizzato una sorta di new wave, eccetera, a me mi ha un po' deluso il fatto che poi a questi film, come dire, non sono costanti questi film, cioè esistono, non esiste ancora per l'Italia una cinematografia, un'industria che per esempio c'è per tantissime nazioni estere, ma dall'Argentina al Messico alla Spagna, per non dire gli Stati Uniti o l'Inghilterra, non dire anche nazioni più vicine a noi come dimensione culturale e umana, nazioni anche latine come noi, solo noi non riusciamo a creare un modello industriale che si reitera e che regala poi allo spettatore una costanza, per cui sembra sempre che il cinema italiano deve riconquistare le sue posizioni, le riconquista, poi le perde in una specie di guerra di trincea che secondo me non ha molto senso, perché poi i film sono tutti diversi, ovviamente il rapporto col pubblico dovrebbe essere costante, dovrebbe avere un significato per gli autori e secondo me questo è fondamentale. Grazie. 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 Grazie.